Una riflessione sull'assoluto e su come questo concetto si è intrinsecamente legato alla nostra esistenza. Un saggio intenso che guida il lettore attraverso strade tortuose di montagna, questo è l'assoluto di Fiorentini, un libro denso di spunti, un percorso in salita che termina in cima, una cima da cui il paesaggio circostante apparirà agli occhi del lettore, più cosciente che mai, molto molto più nido.